Ho fatto minimo, minimo 200 telefonate tra il comune e in città, in via Vicolo Gumer, tutti si qua e là. Ho chiamato la polizia, ho chiamato i carabinieri, sono venuti i vigili urbani a fare fotografie di tutte le specie e se ne fregavano. Io mi sono permesso, scherzando però, di dirci che non pago l'affitto. L'impiegata del comune ha detto che mi manda in 24 ore una lettera di sfratto che mi butta in mezzo a una strada. Ditemi voi come devo andare avanti io solo, sono solo come un cane. Capito? Sono solo come un cane. Dal 31 gennaio scorso ad oggi ai civici 8 e 10 di via Fratelli Bronzetti a Bolzano, case comunali, non è cambiato proprio nulla. Quel cornicione, crollato poco dopo le 4 del mattino, è rimasto tale quale e così anche le materie cadute, ancora transennate. La storia che vi raccontiamo è quella di Giuseppe Fenice, 82 anni, che vive proprio all'ultimo piano di quell'edificio. Io ho 70 anni che sono qua a Bolzano, non un giorno. Sono stato sempre puntuale a pagare l'affitto, a pagare tutti e tutti. È una volta che ho bisogno, è della verità, perché sono stato operato da un male incurabile e non so come vado a finire. L'unica cosa che lei chiede è che gli venga sistemata quella che la casa... Che mi vengono a tirare il primo, sti mattoni. Secondo, quello che mi aspetta. Terzo, la tendano la voglio più. Se la portano via e me la pagano, se no di qua non escono fuori. Una vita quasi da recluso, quella di Giuseppe, chiuso in casa, letteralmente. Non può nemmeno aprire la porta finestra che porta al balcone, perché è troppo pericoloso. Qualche sasso, infatti, potrebbe ancora cadere, come è già successo. Non posso aprire per niente neanche a fare così. Non posso aprire per guardare quando qualcuno viene per aprire il cancelletto, perché devo stare attento che mi ammazza. Cioè la tenda che è tutta storta di là e mi ha detto che quando... Cioè l'ho pagata 3.000 euro, quando l'ho messa. E mi ha risposto l'amministratore, però lui non lo so se ce l'ha le cose o non ce l'ha. Che se mi danno 300 euro, che devo fare io con 300 euro? Con tutta quella porcheria che c'è. E quando al comune chiedeva spiegazioni o a chi rivolgersi... Mi dicevano, devo avere tutto l'amministratore. Ma l'amministratore l'hai visto e te? Mai. Non mettendola sul razzismo, ma su semplici dati di fatto, Giuseppe ancora si sfoga. È una vergogna, è una vergogna. Tutti gli estracomunitari che vengono ogni giorno, lì, qua, dove c'è la cassa malata, è pieno che riscontrano il sussidio. Senza lavoro, senza cosi. Senza niente ci danno in casa loro e noi, che abbiamo lavorato una vita. 62 anni di autista, mi trovo a mezzo a una strada, preso per la gola. Non solo io, ma quasi qui dentro tutti. Ma quanto vive lei adesso, signora? 700 euro. Quanto è l'affitto? Eh? 250 euro. E ne pagava 60. Più le spese. Arrivava a 100. è qualcosa. Adesso che sono solo, guarda come mi hanno ridotto. Una negligenza gravissima da parte del Comune. Così Marco Caruso, esponente di Unitalia, che ci ha accompagnato. Sicuramente dalla parte dell'amministrazione comunale c'è questa negligenza nei confronti dei suoi affittuari, dei suoi inquilini. Queste persone da quattro mesi convivono con le macerie, il signore dell'ultimo piano non può uscire in balcone e ogni volta che tira vento devono chiudere le finestre perché vi potete immaginare la polvere che si alza. Questi inquilini ogni mese puntualmente devono pagare l'affitto al Comune, quindi si aspettano che il Comune, che il proprietario della casa, venga almeno a portare via tutte le macerie che sono nel cortile.